Salve, sono Alessio della concessionaria Fly Camper e sono a presentarvi un nostro veicolo usato della casa costruttrice C. Il modello è Elliot 40 montato sul Fiat 2.8 JTD, 127 CV. Il veicolo è un massardato con lette a castello trasversali e doppia dinette. Ha 7 posti letto ed è omologato 7 posti per viaggiare. L'anno di immatricolazione è 2003 ed ha percorso 60.000 chilometri. Con accessori ha portavici, doppio serbatoio, pannello sorale, viesa, veranda e turbovent. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Venite a trovarci a Figline e in Cisa Valdarno vicino Firenze. Grazie a tutti.